Cari amiche e cari amici, a volte, lavorando da tanti anni con i bambini, mi sono trovato, anzi non a volte, spesso, mi sono trovato con delle considerazioni, delle risposte dei bambini totalmente disarmanti. E ho pensato veramente a Gesù che esortava gli apostoli dicendo lasciate che i bambini vengano a me. E ci sono delle persone che hanno proprio il cuore da bambino e hanno una semplicità che è disarmante, veramente disarmante. Uno di questi è Don Mario Galbiati che è il fondatore di Radio Maria. Poi Radio Maria gli venne tolta e questa è un'intervista che tra l'altro vi consiglio di vedere, per interio, io farò ascoltare solo dei piccoli pezzettini funzionali a quello che vi voglio comunicare. L'intervista si chiama Don Mario Galbiati, fondatore di Radio Maria, ospite di Monica Mondo. Vedetela perché veramente quest'uomo è un uomo di Dio, è commovente quello che dice. Dalla vocazione che ha avuto a 13 anni quando decise di andare in seminario, a questa presenza di Dio che lui ha sentito sempre. Quello che mi ha colpito è l'ubbidienza alla Chiesa, in un modo dove mette totalmente da parte il suo pensiero, l'ego, qualsiasi cosa. Ho fatto questo voto di ubbidienza e obbedisco, punto. Adesso sentiamo un attimo le sue parole. Ecco, adesso sta parlando, quando gli hanno elevato di imperio Radio Maria e lui ha aperto un'altra radio che si chiamava Radio Mater. Adesso le domande vertevano su Meggiugorie. Ascoltiamo da questo punto. Che quando è nata Radio Mater, la seconda radio, e la Chiesa, dicendomi di farla nascere, mi ha detto anche di non parlare più di apparizioni private, da quel momento la parola Meggiugorie nella mia bocca non è mai uscita in Radio Mater. Ma quanto le costa essere così obbediente? Non mi è costato. Mai? No, non mi è costato perché io sento nel cuore che quello che la Chiesa chiede, lo chiede Gesù. Perché la Chiesa non è una realtà privata, c'è perché l'ha voluta Gesù. Perciò quando il cuore è veramente aperto a Dio, anche quando arriva dalla Chiesa qualche invito o addirittura qualche comando a comportarsi in una certa maniera, diventa una realtà di vita. Senta Padre, mi aiuti a capire, al di là della radio, tante volte la Chiesa ci sembra che sia indietro o che non riusciamo proprio a capirla e non riusciamo proprio a essere d'accordo, spesso anche con i papi, ci piacciono, non ci piacciono, ricordi le critiche a Giovanni Paolo II, a Benedetto, adesso Papa Francesco. Non è che proprio la Chiesa ha sempre, sempre, sempre ragione? Sì, questo sì perché la Chiesa è fatta da uomini, i quali insieme alla grazia di Dio che cerca di farli agire cristianamente secondo Gesù, nella sua parte umana ha anche magari questi tempi di attesa, questo non comprendere immediatamente, oppure vuole provare a fare anche l'obbedienza di chi veramente vuole sentire la Chiesa come Gesù che continua la sua missione. Però non ho voluto pensare a queste cose, mi hanno fatto questo invito, l'ho fatto mio e in Radio Mater non si è più pronunciata la parola Meggiugorje, non perché non lo senta più, se è vera apparizione lo dirà la Chiesa, siamo in attesa, quindi più la Chiesa davvero più presto parlerà e grazie a Chiesa che ci darai la tua indicazione. Ecco, cari amici, questo uomo, se voi andrete a vedere questa intervista, è evidente che è un uomo pieno di Dio, anche se è all'interno della Chiesa Bergogliana e quindi sicuramente farà la comunione con Bergoglio. Ma chi se la senti di dire che quest'uomo andrà all'inferno? Ma andate a vederla questa intervista. Si vede che è un uomo di Dio, di una semplicità che è strabiliante e io lo ammiro. Lui ha questa posizione, lo dice la Chiesa, punto. Io mi sono affidato, da quando stavo in seminario, da quando avevo 13 anni, mi sono affidato a Dio e a Gesù che riconosco nella Chiesa come presenza. Quindi qualsiasi cosa mi dice di fare la Chiesa, io ubbidisco. Anche se penso il contrario a volte, se no, io lo accetto per ubbidienza. Ubbidisco perché riconosco la presenza di Gesù nella Chiesa. Non è un fattore umano. Dommi Nutella ha una posizione opposta. Dommi Nutella per me è un uomo di Dio. E allora qui già sento chi potrebbe dire, ah ma no però teologicamente Bergoglio il diavolo che fa comunione come Bergoglio il diavolo. Quello che volete. Ma a volte io credo che se si guardasse proprio agli uomini con la loro fragilità, con le loro debolezze, e al loro cuore è come invece come cenacolo di Dio che dimora in tutti gli uomini. C'è questa presenza. E quindi come si fa a condannare persone in buona fede? Dommi Nutella, io sono convintissimo che è in buona fede. L'ho difeso e lo ridifenderei se lui avesse bisogno di me, nonostante anche questo attacco che mi ha fatto, ma io l'ho perdonato già mentre lo sentivo questo attacco. Ne sono rimasto dispiaciuto, questo sì. Però insomma il momento è tanto grave che non ci si può attaccare a queste stupidaggini, no? E così quest'uomo, Don Mario Galbiati, che è ubbidienza alla Chiesa fino all'ultimo, costi quel che costi. Mi spaventano le voci integraliste, quello sì, e mi spaventano sia nella Chiesa bergogliana, sia nel piccolo resto. L'integralismo è qualcosa da bandire. Quindi se qualcuno è convinto che Don Mario Galbiati andrà all'inferno perché ha deciso di ubbidire ciecamente alla Chiesa, per me sbaglia. Il mio non è un misericordismo alla Bergoglio. Sapete quanto critico e quanto lo attacco Bergoglio. Chi segue il decimo toro lo sa perfettamente. Però al di là di tutto ci sono gli uomini, ci sono le singole situazioni e le singole vocazioni. Per cui Don Mario Galbiati ha quel tipo di vocazione e per me bisogna vedere quello, che è la parte bella di Don Mario Galbiati. Non bisogna vedere il fatto che faccia la comunione con Bergoglio. Di Don Minutella è un'altra manifestazione di Dio, di vedere come a volte Dio si manifesta nel coraggio, nell'avere il coraggio di affermare la propria convinzione e la verità, quello che una persona crede essere vero. Quella di Viganò è un'altra espressione ancora del divino. Però nessuno può pretendere dall'altro. è sbagliato dire ma perché Don Viganò ad esempio non viene con noi, no? Oppure perché Don Mario Galbiati segue Bergoglio. Io le vedo tutte come espressioni del divino che si manifesta nei vari uomini e donne in buona fede alla ricerca. E sono convinto che Dio guiderà ciascuno. Guiderà ciascuno verso il Regno dei Cieli e a fare l'esperienza del Regno dei Cieli. E al di là del chiamarsi Don Mario Galbati e seguire Bergoglio, al di là del chiamarsi Don Minutella e i daveri due scomuniche e al di là di fare la vita come un gangster nascosto di Monsignor Viganò. Quindi spero che non fraintendiate, perché qui ormai non si può parlare più. Gli integralisti fraintendono facilmente. L'integralista immediatamente è convinto di avere il vero e che quindi tutti gli altri siano nel falso, nello sbagliato e nella condanna e quindi non c'è niente da fare. Però i miei appelli sono alle donne e agli uomini di buona volontà. Siamo uniti. Io rispetto Don Mario Galbiati al pari di Don Minutella e al pari di Viganò. Non vedo una contraddizione in questo. Vedo, non lo so, una serie di manifestazioni del divino. E poi c'è la parte umana. Ma la parte umana, ecco, chi è senza peccato scaldi la prima pietra. Non sta a noi giudicare. Bene, cari amici e cari amici, un caro abbraccio a tutti e cerchiamo di essere uniti veramente. Marco Cosmo